Potente a par ragazzi, qua ho Axel, oggi sono il sol e sono qui a presentarvi questo nuovo episodio del pack of the day perchè ebbene si ragazzi oggi sono sul mio primo canale a presentarvi questo video questo perchè perchè ragazzi non ho veramente tempo io oggi ovviamente di fare, di caricarvi il pink pale solamente non ho tempo, domani avrò la partita e dovrò studiare per lunedì quindi sposto diciamo il pink pale a lunedì infatti se siete interessati, se volete partecipare andate a vedere sia la mia pagina facebook sia twitter perchè credo di farla su twitter l'estazione comunque questo qua è il ventitresimo episodio del pack of the day vi ho già spiegato i motivi appunto perchè l'ho fatto speriamo di trovare qualcosa non so appunto per gli iscritti più attivi, per quelli che mi seguono anche sul secondo canale che trovate in alto a destra oppure in descrizione che si chiama waxv2 appunto per queste persone sapranno che ultimamente sono stato veramente sfortunato non trovo più niente, zero, cioè su 22 episodi solo un episodio ho trovato qualcosa di buono e se la matematica non è che tipo vendendo tutto avevo trovato i tomi abbiamo fatto 50.000 crediti se la matematica non è un'opinione tipo in 22 episodi ho speso 165.000 crediti quindi sono ancora in 105.000 crediti di perdita ecco quindi è una cosa abbastanza tattica poi oggi andremo ad aprire sapete qui stranamente Arturo perchè ebbene se ragazzi tutti voi mi dite che Arturo è molto fortunato magari se potete per dare un pizzico di fortuna un po' di più mettete un bel me gusta adesso battiamo due volte le mani dopo quindi anzi tre ok dopo aver battuto tre volte le mani vi prego fatelo e cosa succederà troverò qualcosa di buono in questo pacchetto vediamo 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 si vanno a 172.500 crediti di spese speriamo di fare qualcuno speriamo vediamo oh yes 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 no ok palle abbiamo trovato Chicao di Guzman la lana oh my god la lana e un bel madonna che pacchetto potenti ahimè non ne so di peraprire un altro quindi spero che questo video vi sia piaciuto ma anche solo sono felice se vi ho strappato anche un piccolo sorriso e sorpasta ah 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 l'ho strappato adesso in realtà eeeh no boh non lo so comunque detto questo io vi saluto e vi dico potente a palacento il prossimo video vi volevo anche dire che forse dato che il pink palle lo farò lunedì non so se sarò in grado di caricarlo già quello stesso giorno quindi cosa farò magari ve lo carico martedì e domani vi caro con un altro pacchetto del back of the day su questo canale eeeh spero che vi faccia piacere bolla eeeh spero che vi faccia piacere